Manomettere o vandalizzare un semaforo è doppiamente grave. Primo perché danneggiare deliberatamente un bene pubblico a beneficio della collettività è un grave atto di inciviltà e punito dal codice oltre che rappresentare un costo per i cittadini. Secondo perché il danneggiamento comporta il malfunzionamento del semaforo stesso e quindi crea una situazione di grave pericolo, ancora più grave di per sé il fatto che in caso di incidente a farne le spese sarebbero ignari utenti della strada. È il caso segnalatoci recentemente da diversi utenti, in particolar modo ciclisti e pedoni che usufruiscono del sottopasso ferroviario a Fosso Seiore che mette in comunicazione la zona monte con la zona mare. In particolare il pericolo è dato dal fatto che la viabilità nel sottopasso, data la sua larghezza, è a circolazione alternata, regolata proprio dal semaforo verde da una parte e rosso dall'altra e viceversa. Ora dalla parte monte, ovvero provenendo dalla nazionale ed imboccando il sottopasso, il semaforo non ha più le gemme colorate che consentono una migliore visualizzazione del colore in essere, perché qualche individuo di scarso intelletto ha pensato bene che era meglio spaccarle, rendendo così inutile la sua accensione. Morale della favola? Si passa con qualche patema e molta attenzione, sperando che sia il colore giusto e che dall'altra parte non sia verde. Viceversa, per chi viene dalla parte mare dove il semaforo è integro, paradossalmente è ancora peggio, sì perché se il semaforo rotto induce a un po' di prudenza in più, chi è da questa parte vede un bel verde sparato e mai penserebbe di trovarsi davanti improvvisamente dall'altra parte un'auto o, peggio ancora, ciclisti con bambini al seguito, cosa che invece si è puntualmente verificata sotto i nostri occhi, o meglio, le nostre telecamere. Ora è un periodo di minore utilizzo di questo strategico sottoferrovia, data la stagionalità, ma comunque nei fini settimana viene spesso e frequentemente utilizzato da chi percorre la ciclo pedonale Fano-Pesaro e viceversa. Pertanto il nostro auspicio, come quello anche dei segnalatori e che ben presto le lampade di questo semaforo strategico siano a breve ripristinate, onde evitare spiacevoli conseguenze.